Rivino però! Italia il Tornato Italia! Rivino però! Siamo a Chutesquing, un borgo nella Valdonia. Questa è la via principale Questa è una rampa di discesa, andiamo finito qua, il numero 1 parte da qua la via, finisce lì! Andiamo di presa! Ho il divieto di sosta, ambo i lati qua eh! Siamo fuori dal tunnel, è il divertimento! Ascolta! Saltalo! Saltalo tu andete! Opla! Eh ma qui adesso la ciclabile è finita, è scalinato! Abbiamo trovato la fine dell'asfalto! Michele ha detto vieni di qua che conosco una scorciatoia! Giusti siamo giusti! La mappa ci dice che siamo giusti! Andiamo allora se siamo giusti! Era tutto asfalto, come mi aveva detto! Michele aveva detto tutto asfalto! Ho il pompato gli sgomenti o no? Michele mette il turbo qua! Io scamo tutto asfalto! Ce l'hanno tolto l'asfalto un attimo! Questo è un sentiero da disceso! Da discesa! Non da salita! Ormai si incappe! Michele ha chiesto un belitris o un club che mi fermi! Chietate! Michele! Non mi hai portato! Non puoi neanche il troico! Michele non puoi neanche il troico no? Ecco la cosa tra le gambe! Sì! Siamo che torniamo indietro! Non c'è il cerico qua che ci motiva per andare su! Oggi non è giornata! Oggi solo asfalto! Più si bianca la carta vai io però! Io su eh! Taglia! 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 Oh! 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 Eh! Stiamo raggiungendo! Abbiamo raggiunto la sella di Sobdonia! Sobdonia! Wow! Wow! A view point! Wow! Mi salita! Verso il lago! Non so se c'è! Amore! Dopo che ho appena scriso la telecamera! Zio Billy! Questo lo cancelliamo! Questo! Lo cancelliamo questo! E le radici sono malefiche! Bellissimo! per sopra per sopra questo è il mezzo che lo chiamiamo lago sono sabbie mobili qua benvenuti nelle sabbie mobili torpocane beh le libellule ci sono hai saltato lì? ciò è detto a l'arri poi qualcuno è il buono o è il triste sei il buono o sei il triste? vedo che i tuoi parole siete i climbing eh sì le pallone c'è benvenuti nella pallone abbiamo un downhill con ribaltamento su di qua bagnato e radici ribaltamento assicurato spingismo con il palbosco lì in libere è meno rischioso ma non si cade qua qua è brutto Michele mi hai portato nel brutto ma la strada lì sotto è un pezzettino che trovo io ho un pezzettino provo io ho un pezzettino provo qua non c'è faltano tutta cleria è brutto Michele non venire non venire non venire brutto non venire brutto e voi che dite non venire brutto? ma sei la del viaggio qua qua vai la discesa vai la discesa vai la discesa qui c'è un altro attacco questo dai questo si fa questo chi fa questo? Massa 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 andiamo allora se c'è un altro questo 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 è più facile quell'altro eh e ma ciao qua Michele ciao ma qua restiamo infrattati eh ciao 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 il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Giro finito Ha un pianoforte era Abbiamo chiuso l'anello Da Sombdonia Da Ognia Sombdonia Val Saizera E giù, e giù Ponteba E giù, e giù 60 km Bello, bello Turistico, e turistico Ciao 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 Ciao